Oh Jacques, non so che cos'ho, mi sento così nervosa. Ah bene, non è nulla. Sai che ho la cura infallibile. Non vuoi mica dire? Ma certo. Oh Jacques, non credo che sia il caso. Non ti preoccupare tesoro mio, lo farò con la massima delicatezza. Jacques, vuoi farlo davvero? Ma certo tesoro mio, se il problema è funzionato, non c'è motivo perché non funzioni anche stasera. Tu rilasciati, lascia fare tutto a me. Sì mio tesoro? Non credo che sia una buona idea. Vuoi dire che non ti calma? Temo proprio di no. Prenderò invece un sonnifero. Benissimo tesoro, te lo porto io. Perché non ne prendi uno anche tu? Devi riposare. Sì, è meglio che lo prenda anche io. Ecco il mio tesoro. Grazie, angelo mio. A te, angelo mio. Oh, povero Jacques. Non importa. Quando hai visto uno stradivario, li hai visti tutti.